Ed ieri l'appello al rispetto delle norme anti-covid da parte del sindaco di Sondro, Marco Scaramellini. La pandemia non è ancora finita. I numeri del capoluogo preoccupano e invitano a non abbassare la guardia, anche se oggi la nostra attenzione, e forse anche i timori per il futuro, sono più legati alla guerra alle porte dell'Europa. Le cifre dei profughi in arrivo dall'Ucraina sono salite vertiginosamente nelle ultime ore, a ulteriore testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, della drammatica escalation della guerra scatenata da Putin. L'emergenza tocca ora le prefetture e poi a scalare i capoluoghi di provincia, compreso Sondrio. Sondrio, ma tutta la comunità della provincia di Sondrio, si è mossa immediatamente. Ci sono stati grandi slanci da parte dei cittadini, di assistenza, di cittadini che si propongono, che danno la possibilità di utilizzare appartamenti, ma le istituzioni stanno seguendo un percorso molto attento di organizzazione, perché i flussi che si prevedono, arriveranno, saranno consistenti, quindi ci vuole un'organizzazione importante. È la prefettura che coordina il tutto. Io ho partecipato anche la settimana scorsa a una riunione con Regione Lombardia, con il prefetto di Milano e con i sindaci capoluoghi della Regione Lombardia, perché tutti hanno le stesse necessità, cioè capire come muoversi per dare un'assistenza che sia veramente organizzata. Il numero complessivo dei profughi ucrani arrivati in Lombardia da fine febbraio in avanti è oltrepassato quota 10.000. Le varie emergenze e le crisi di queste settimane si stanno intrecciando e vale sia per i profughi che per le tante persone in difficoltà, dopo la crisi economica del 2012, poi la pandemia, ora gli effetti della guerra. Quasi una tempesta perfetta. Il sindaco Scaramellini ha ribadito che Sondrio non lascerà indietro nessuno. L'affermazione che mi sento di ripetere, noi abbiamo un'organizzazione sul territorio validissima, il Comune di Sondrio gestisce anche l'ufficio di piano e lo gestisce bene. Il sindaco di Sondrio ricorda anche i numeri della pandemia, che obbligano ancora alla massima attenzione. Non voglio creare ulteriori preoccupazioni ai cittadini, però dobbiamo ricordarci che i contagi ci sono ancora. A Sondrio abbiamo ancora un centinaio di contagi, che sono tanti.